Il candidato sindaco Roberto Gambino del Movimento 5 Stelle, in un incontro organizzato dall'Azione Cattolica Nissena nel Salone della Parrocchia San Pietro, ha dichiarato che per rendere Caltanissetta una città vivibile è necessario creare uno strumento urbanistico efficiente. Pertanto uno degli obiettivi che il candidato sindaco Gambino propone alla città è il blocco dello sviluppo edilizio e dell'incremento della cementificazione. Siamo convinti, ha detto, che il rilancio del centro storico parta dalla valorizzazione degli immobili già esistenti. Poi Gambino ha parlato del nostro problema dei rifiuti. Noi miriamo a raggiungere, ha detto, l'obiettivo dei rifiuti zero. La situazione della raccolta differenziata a Caltanissetta è ancora critica, ma bisogna lavorare per trasformare qualsiasi tipo di rifiuto oppure oggetto inutile in opportunità, proprio come fa la Caritas con l'Emporio Solidale. È necessario creare delle strutture o centri di raccolta capaci di agevolare il cittadino nel suo processo di svistamento del rifiuto e mettere in sicurezza le discariche che, come quella di Contrada Stretto, creano inquinamento anche nei territori limitrofi. È ancora sottolineato che la rinascita territoriale passa anche attraverso lo sviluppo economico. Per uscire dall'isolamento, ha detto, è necessario ideare un piano di attività di area vasta che includa non solo la nostra città, ma tutto il centro Sicilia. Infine Gambino ha parlato di servizio idrico integrato. Da anni ha dichiarato, siamo al fianco dei cittadini e combattiamo contro l'inquinamento ambientale, la speculazione sul costo dell'acqua e la rete fognaria che non riesce a garantire un servizio efficiente. Abbiamo elaborato diverse soluzioni che potrebbero essere adottate per poter gestire al meglio il servizio idrico e tutelare i cittadini.